Ciao a tutti amici del vostro Jumpy, allora comincia la prima giornata della nuova stagione della Serie A, ripeto oggi è una giornata di dolore, dovrebbe essere un lutto nazionale ma a quanto pare così non è, anche se si dice, ma poi alla fine il calcio si è fermato solo a Genova e a Milano perché erano coinvolte le due squadre di Genova, le altre giocano. Ripeto, non mi sembra rispettoso, non mi sembra giusto, questa è stata la decisione dei vertici ne prendo atto, quindi oggi è una giornata in cui onestamente io non riesco a parlare di calcio non ho proprio quell'entusiasmo che ho di solito nel farlo, la prima giornata di campionato dovrebbe portare entusiasmo, ma per me non è così. Comunque nonostante questo ho deciso proprio adesso, comunque i pronostici di farli lo stesso e quindi la prima giornata di campionato vede, allora Chievo-Juve alle 18, quindi tra poco, perché io sto facendo il video adesso che sono praticamente le 5 e mezza, allora Chievo-Juve direi che qui 2, direi che il Chievo per quanto può opporsi alla Juventus, ma la Juventus credo che la prima sicuramente non la fallirà, la prima uscita è Cristiano Ronaldo, quindi Chievo-Juve 2, poi sabato alle 20 e 30, non fanno più 20 e 45, ma 20 e 30, ok. Lazio-Napoli, allora per quello che si è visto Napoli non mi sembra in grandissima forma, la Lazio invece sì, si gioca a Roma, quindi non do fiducia al Napoli, ma do fiducia alla Lazio, per sicurezza dico Lazio-Napoli 1x. Poi, domenica alle 18, Torino-Roma. Il Torino si è rinforzato molto bene, ma la Roma è quella che ha fatto più acquisti, che non sempre fare più acquisti porta bene, vuol dire migliorarsi, comunque ha fatto degli ottimi acquisti anche la Roma. Vediamo se saprà inserirne in squadra o no. Comunque la Roma credo che sia sempre una grande corazzata, quindi Torino-Roma, il mio pronostico è X2. Poi alle 20 e 30, domenica, ci sono una serie di sfide che sono Bologna-Spalla, allora Bologna-Spalla, non so perché, ma mi sento che Bologna possa portare a casa questo risultato, quindi do fiducia e dico 1. Empoli-Cagliari. Empoli-Cagliari, l'Empoli non so quanto possa essersi rinforzato comunque venendo dalla B, il Cagliari forse qualcosina in più ha fatto, comunque è una squadra già di serie A, anche se l'Empoli... comunque Empoli-Cagliari io dico X2. Parma-Udinese. L'Udinese ha venduto qualcosa, ha comprato qualcosa, il Parma secondo me ha messo su degli ottimi acquisti che per la serie A dovrebbero andare bene, ha soprattutto un certo Gervinio che ritorna in serie A. Quindi secondo me Parma-Udinese io dico gol. Poi Sassuolo-Inter, ecco Sassuolo-Inter e il Sassuolo ha fatto una bella squadra, secondo me, si è rinforzata, ma se c'è una squadra, almeno sul mercato per gli acquisti che ha fatto, che mette un antagonista alla Juventus in questo momento, anche per i risultati che ha fatto nell'Amichevoli, è l'Inter. Quindi Sassuolo-Inter, diamo fiducia all'Inter, ma non del tutto. Mettiamo X2. Poi lunedì, il posticipo del lunedì, alle 20.30 e Atalanta Frosinone. Allora è vero che Gasparini si è lamentato, ma a me l'Atalanta sembra sempre un'ottima squadra. Avrà dato via qualche pezzo sicuramente importante, ma ha preso anche il nostro Duvan, che secondo me è un grande attaccante, ormai ex nostro. Quindi secondo me l'Atalanta comunque rimane una grande bella squadra. Il Frosinone che ha fatto qualche bello acquisto, tipo Campbell, ok? Allora, per sicurezza, secondo me l'Atalanta dovrebbe portarsi questo risultato a casa, ma me la vedo una partita dove segnano, quindi dico over, ok? Per chiudere le due partite finali che sono state sospese, allora Milan-Genoa verrà recuperata il 31-10, ovvero il 31 ottobre. E Sampdoria-Fiorentina verrà recuperata il 19-9. Quindi giocherà prima il recupero della Sampdoria e poi più avanti lo farà il Milan con il Genoa. Niente, detto questo, vediamo come saranno questi primi risultati di questa prima giornata. Conosceremo le squadre dopo gli acquisti che hanno fatto, tranne appunto le partite rinviate. Chiudo dicendo che non posso essere così entusiasto di questa prima giornata, perché comunque, ripeto, secondo me oggi non si doveva giocare in nessun campo. Questo è il mio pensiero. Comunque, la prima giornata inizia e niente. Ciao dal vostro Jumpy!